questo non si? vi insegno come si fa un panino aspettate che preparo le cose prima di tutto si fa così poi questo si mette così e preparo così bella gente poi dove cazzo è il ketchup? porca troia mamma dove è il ketchup? cazzo vabbè usa il maionese il maionese è terroccato ok raga poi si fa così ok raga adesso il panino è pronto e poi ok e tadaaa questo sarà il vostro panino per sempre e il tutorial serve e basta mangiate e addio